Le attività inizieranno il 3 giugno dal lunedì al venerdì, il mercoledì faremo concerti anche il venerdì e il giovedì ci saranno attività teatrali. Ogni giorno cercheremo di dare una presenza artistica alla piazza per cercare di avvivare un pochino la zona che la sera soprattutto è molto buia e deserta. Questa iniziativa è stata organizzata a spese vostre o avete ricevuto qualche aiuto? Diciamo finanziamenti comunali, cose del genere no. Autofinanziamenti da parte degli esercenti sì, cioè sono stati loro a dare un contributo per tutta la parte artistica elaborata poi dall'associazione Farm. Ci sarà anche una raccolta fondi per l'illuminazione? Si tratta di un bidone che verrà esposto dove ogni persona che partecipa all'iniziativa può dare un contributo per le luci del mercato perché questa iniziativa inizia il 3 giugno ma finisce con la nuova apertura del mercato delle erbe che verrà fatta a settembre e ottobre. Quindi l'ultima settimana di luci nella città sarà fatta ad ottobre. L'idea è nata per vivacizzare la zona che purtroppo è un po' degradata e noi come sfogline abbiamo intenzione in questo lasso di tempo di organizzare dei corsi di sfoglia dal lunedì al giovedì sia per bambini che per adulti. Tutto questo partirà dalle 18 circa del pomeriggio, le lezioni dureranno circa un'ora e mezza e poi dalle 8 quando la serata si vivacizzerà serviremo a chiunque vorrà sedersi ai nostri tavoli paste al forno, ovviamente casalinghe, torte salate e dolci casalinghi.